Su, avanti, salite e allacciate le cinture. Tornerà, vero, mamma? No, non tornerà mai se hai letto il biglietto. Dove stiamo andando? Allora papà non ha preso tutti i soldi. Perché l'ha fatto? È un farabutto, tesoro. Trudy sta cercando una cameriera. Gestisce il Model A Caffè a sud della città. Non posso permettermi di assumere nessuno adesso. Accetterai qualsiasi cifra lei decidesse, oltre le mance. Che ne dice? Lei darò solo la paga minima fino a Natale e poi vedremo. Grazie, grazie. Lei non è mia madre. Sì che lo è. No, ha solo sposato mio padre. Non accetta il fatto che suo padre lo abbia lasciato. È un grosso trauma. Andrà tutto bene, mamma? Io credo di non essere più nella sua lista. Dio non si dimenticherà di noi a Natale. Non tornerà mai, se mi dispiace. Non tornerà mai più. Io vi odio. Io ti odio per tutto questo. Hai il coraggio di mandarci via il periodo di Natale. Sta tranquilla, mamma. Perché non me l'hai detto subito? Io me la cavo da solo. Ti prego. Dai ragazzo, muoviti. Non andare, Miles. Devo farlo. Siamo noi la tua famiglia. Ma non mi resta nient'altro da fare. Io amo Miles e non voglio perderlo. A che serve tutto questo? A produrre della birra. La persona con cui devi fare i conti nella vita è quella che vedi ogni mattina riflessa nello specchio. Essere single non è poi così male. Ma io non sono single. Sono un romantico deluso. Sì, certo. Ti voglio bene. Sarà il miglior Natale che abbiamo mai avuto. Davvero emozionante.